grandissimo Enzo, ciao Enzo, eccoci qui come stai, tutto bene, tutto posto? grande Cristian, un uomo, una leggenda, un mito colui che è sempre presente in queste belle manifestazioni filantropiche ecco qui, sempre onnipresente Enzo su tutte le manifestazioni di beneficenza e non solo e non solo, siamo qui insieme a Mariano D'Angelo dov'è? si è disperso, c'era anche Valentina Poletti anche stasera per rispondere al richiamo del nostro carissimo amico cardiologo Ivo Puccini, siamo qui a collaborare a questa splendida manifestazione a portare qualche soldino in più per comprare strumenti che possano servire ai bambini per aiutarli in questa patologia molto importante c'è pure Niki, vedi Niki? Niki è forte amichetto amico ecco qua facciamo vedere la maglietta ecco qua, allora dicevamo c'è anche Mariano ma non lo vediamo no, c'è, c'è, l'ho portato in macchina con me insieme a Valentina Poletti però sicuramente si saranno andati a prendere il caffè